La metodologia didattica del thinkering è una fusione dei concetti di thinking, pensare, e tinkering, armeggiare. È un approccio educativo che promuove l'apprendimento attraverso la sperimentazione pratica, la risoluzione di problemi e la creatività. Questa metodologia è particolarmente utile nelle discipline STEM, scienza, tecnologia, ingegneria e matematica, ma può essere applicata in molte altre aree. Vantaggi del tinkering, motivazione e coinvolgimento. Gli studenti sono più motivati e coinvolti quando possono lavorare su progetti concreti che trovano interessanti e significativi. Sviluppo di competenze trasversali. Il tinkering aiuta a sviluppare competenze come il pensiero critico, la collaborazione, la comunicazione e la gestione del tempo. Adattabilità. Gli studenti imparano a essere flessibili e ad adattarsi a nuove informazioni e situazioni. Preparazione per il futuro. Questa metodologia prepara gli studenti per le sfide del mondo reale, dove la capacità di innovare e risolvere problemi è essenziale. Implementazione del tinkering. Spazi di apprendimento. Creare spazi fisici come maker spaces o laboratori dove gli studenti possono sperimentare e creare. Progetti e sfide. Strutturare il curriculum intorno a progetti che richiedono agli studenti di identificare problemi, progettare soluzioni e costruire prototipi. Risorse e materiali. Fornire una varietà di materiali e risorse tecnologiche che gli studenti possono utilizzare nei loro progetti. Supporto e guida. Gli insegnanti agiscono più come facilitatori che come trasmettitori di conoscenza, guidando gli studenti attraverso il processo di scoperta e creazione. Esempi di attività tinkering. 1. Progetti di robotica. Costruzione e programmazione di robot per svolgere compiti specifici. 2. Stampa 3D. Progettazione e stampa di oggetti 3D che risolvono problemi pratici. 3. Esperimenti scientifici. Creazione di esperimenti per testare ipotesi scientifiche. 4. Progetti di energia rinnovabile. Sviluppo di modelli di sistemi di energia rinnovabile, come turbine eoliche o pannelli solari. 5. Giungiamo quindi alle conclusioni finali. Il thinkering rappresenta un approccio dinamico e moderno all'educazione, centrato sull'apprendimento attivo e l'innovazione. Favorisce lo sviluppo di competenze fondamentali per il XXI secolo, preparando gli studenti a essere pensatori critici, creatori e risolutori di problemi nel mondo reale.